Matteo Piano, che gioia ritrovarsi con tutti questi ragazzini, vero? No, molto, è una bella gioia anche per sapere che hanno iniziato l'attività tutti, quindi che adesso lo sport sta ritornando nelle mani di tutti, questa credo sia la cosa più importante. Dal punto di vista del campione, che ricordi hai del Matteo Piano che cominciava a giocare a pallovolo nelle scuole, che cominciava questa attività che poi lo avrebbe portato dove è arrivato? Io ho iniziato in oratorio come hanno iniziato credo tanti di questi ragazzi, ero ad assi, andavo in oratorio, mi divertivo, credo che fosse il leitmotiv della mia vita, il divertimento, comunque adesso è il mio lavoro, è la mia passione, però continua a essere un divertimento, credo che questo, i ragazzi sono il simbolo e aiutano a ricordarti sempre che ci deve essere quella componente lì. In questo momento storico è davvero difficile anche per lo sport di base ripartire per via dei problemi economici, delle strutture che a volte non hanno perché le scuole non gliele concedono, qual è l'auspicio di Matteo Piano e le speranze per il futuro prossimo? L'auspicio che faccio è quello che ho ottenuto per noi, il fatto di riuscire a fare squadra, a fare gruppo, a fare comunità in un periodo che è nuovo, quindi ognuno deve trovare la sua forma e il suo modo di essere insieme e di fare quello che faceva nella sua quotidianità, quindi ritorno a scuola, ritorno allo sport, ritorno al lavoro in questa nuova modalità, quindi è questo, credo che sia questo adattarsi, auguro veramente un grande adattamento a tutti quelli che intraprendono qualcosa di vecchio ma in una nuova maniera. Grazie.